Buongiorno ragazzi e ragazze e benvenuti in questo mio nuovo video Allora, oggi ho deciso di farvi vedere tutte le mie cose preferite e spiegatevi anche perché sono le mie preferite ovviamente e come starete vedendo ho sull'avatar che abbiamo fatto insieme in un altro video mi raccomando se ve lo siete persi correte a vederlo e non perdiamo però altro tempo e iniziamo subito col video Questa è la mia casa preferita di Brookhaven è la mia preferita perché è molto grande e secondo me è anche bella in generale mi piacciono tutte le Real Estate però in particolare questa perché a parte che è molto luminosa e poi c'è tutta l'acqua intorno e non lo so, mi piace così Questa invece è la mia macchina preferita di Brookhaven e mi piace perché è molto minimalista e di estetica molto carina secondo me e si può cambiare il colore, vedete, io lo metto rosa vabbè come sempre e con il premium invece si può infucare oppure semplicemente mettere il fumo e poi si può anche velocizzare la macchina, vedete la velocità massima è di 200 e una volta che la si mette velocissima va proprio super super veloce Andiamo avanti e questo è il mio gioco preferito da fare su Brookhaven è l'altalena perché va super super veloce e poi si trova al centro quindi si può ammirare un pochino il panorama di Brookhaven Questo qui è il mio avatar preferito e sì, l'ho fatto tutto io Ehi, aspetta un attimo Ma cos'è quella struttura lì? Non sarà mica la... Scuola? Ragazzi, voi siete pronti a ritornarci? Questo è il mio gioco preferito Brookhaven Eh sì, mi piace tantissimo perché si possono fare un sacco di roleplay È abbastanza grande Poi Brookhaven fa tantissimi aggiornamenti ogni volta E quindi sì, molto bello E completo soprattutto Ragazzi, queste erano tutte le mie cose preferite di Brookhaven Fatemi sapere se vi piacciono anche a voi E per oggi è tutto ragazzi Questo video è finito Io spero proprio che vi sia piaciuto Mi raccomando, se è così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella per non perdervi nulla Ciao! Ciao!